Uno all'altro gli fa, ma perché sei così mogio? Sta buono, ma c'ho mia moglie incinta. Dice, beh, è una bella notizia, perché sei mogio? E perché? Perché mi fa incazzare il fatto che gli mettono le mani nella pancia e gli fanno congratulazioni. Oh, c'è forse una che mi mettesse la mano nel pisello e mi dice, complimenti?